Segnali fortissimi per tutte le criptovalute oggi, vediamo croco non più 10.5% nelle ultime 24 ore Vediamo tante altcoins e mettere percentuali interessanti Voglio assolutamente aggiornarvi con questi grafici ragazzi Perché ci fanno ben capire dove siamo in questo momento e dove siamo diretti in base ai dati storici Quindi ragazzi adesso iniziamo subito, prima di iniziare però come al solito vi chiedo O mi piace, se siete qui o mi piace, basta un click, il gioco è fatto, vi fate capire che ci siete E che posso continuare a pubblicare video, se non siete iscritti iscrivetevi al canale per non perdervi nulla Questo anche è importante Detto ciò ragazzi adesso iniziamo subito, vediamo in questo momento H-Baro con un più 41% M con un più 26% e tanti piccoli nomi come Caspas e anche Ada Gardano con un più 5% Vediamo Dojo con un più 6% Tanti nomi che conosciamo XRP che si è ripesa tantissimo ragazzi, già ve l'ho detto XRP ha un potenziale assurdo Perché Gary Gensner potrebbe essere finalmente licenziato La SEC potrebbe andare più cauta verso le criptovalute con la nuova ventata di positività Che abbiamo avuto sulle criptovalute grazie al parrucca presidente adesso, Trump Quindi potrebbe essere molto interessante vedere la situazione e come si evolverà XRP è un progetto davvero che può dare tanto ancora In questo momento ragazzi vediamo la market cap che ha superato i 3 trilioni di dollari per le criptovalute 3.08 quindi quasi 3.1 trilioni di dollari Vediamo i volumi, 150 miliardi ovviamente siamo scesi dai 300 miliardi perché ci sta ragazzi E possiamo sempre salire E soprattutto ragazzi il mercato americano è stato chiuso il weekend ovviamente sapere domenica Adesso riaprirà il mercato americano e vedremo la situazione come sarà Sono super curioso di come le cripto realmente reagiranno e sono curioso di vedere se Bitcoin attaccherà i 100 mila dollari Ma sono sicuro che forse entro la fine di novembre oppure entro la fine di quest'anno Li tocchiamo ragazzi perché è una soglia davvero anche psicologica importante per tantissimi traders e persone che investono nelle criptovalute Quindi ci sta e vi ricordo che la dominance ragazzi è sempre al 58-59% per Bitcoin Quindi non siete ancora pronti a vedere realmente dal coin season E' stato solo un piccolo assaggio questo qui, un assaggino per quanto riguarda le criptovalute Vedremo delle situazioni molto interessanti Io ho fatto gli investimenti su alcune mincoins, ho fatto dei rincarichi su tante criptovalute Perché mi aspetto che una volta che Bitcoin tocchi i 100 mila vedremo tanti progetti riprendersi Però non sono consigli finanziari ragazzi Il primo grafico che volevo mostrarvi è questo qui, questo account che seguo sempre, già ve l'ho mostrato su X, molto interessante Che ci mostra in questo caso il prezzo di Bitcoin che ha formato un triangolo simmetrico Che potrebbe rompere verso l'alto Il prossimo target di questo triangolo simmetrico sono i 100 mila dollari Quindi è come se stessimo caricando la molla prima di andare verso l'alto Ovviamente non per forza sarà così Però lo stesso, prendiamo il grafico, potrebbe assolutamente significare che Bitcoin in questo momento Questo qua è il grafico orario ovviamente ragazzi Quindi è un grafico non al 100% affidabile Volevo specificare questo, però lo stesso Stiamo formando questo pattern e potremmo rompere anche verso i 95 mila Essendo un grafico orario, quindi un po' più volatile rispetto al 4 ore e quello giornaliero Un'altra cosa importante ragazzi, sempre per quanto riguarda Bitcoin È che abbiamo formato il simile gap sui futures intorno a 92 mila 200 dollari Quindi secondo me, secondo il simile gap viene sempre riempito Il prezzo ritorna sempre verso quella zona quando i mercati riaprono Perché chiude il venerdì e riapre il lunedì E quando si forma questo gap di apertura e chiusura il prezzo tende a ritornare E tantissime persone che fanno trading usano questo indicatore per aprire posizioni short o long che sia E infatti in questo momento il prossimo target sono questi 92 mila 200 Che potrebbe ritoccare anche in giornata in verità se ci sono volumi Ma ragazzi, il grafico più importante che volevo mostrarvi è questo qui Perché se vi ricordate, se mi seguite ormai da anni Sapete che io vi parlavo spesso dell'altcoin season index Vediamo che in questo momento siamo in una zona molto molto iper venduta Per quanto riguarda questo index ovviamente ragazzi Siamo in un big coin season E vediamo che siamo stati in questa zona prima di ogni spike verso l'alto Verso l'altcoin season Vediamo due le 18, due le 19, due le 20, due le 21, 22, 23, 24 Quindi siamo diretti di nuovo verso zone alte Siamo per ritornare verso zone inerenti alle altcoins E abbiamo già visto un assaggio ragazzi In questo momento con registro 92 mila dollari per il prezzo dei bitcoin Quindi siamo vicini al simile gap Siamo vicini al massimo storico precedente ragazzi Possiamo romperlo anche oggi Comunque dicevo Stiamo ritornando in una zona molto interessante per l'altcoins E questi prezzi più 20, più 30% sono l'inizio E vedremo delle belle anche quanto riguarda CRO ragazzi Tra poco vi parlo del prezzo Perché voglio parlarvi anche del prezzo di Cronos Che è molto interessante la posizione in questo momento Quindi zona qui Torniamo a livello 75 Super giù E rinizia di nuovo una alt season molto molto potente Anche qui vediamo ragazzi Come è successo nel 2020 Questa qui è la market cap di tutte le altcoins E nel 2020 abbiamo visto uno spike Verso l'alto di volumi È iniziata l'alt season Anche in questo momento Stiamo formando lo stesso movimento di prezzo Che abbiamo visto nel 2020 Quindi dovremo avere un alt season potente nel 2025 Fino al 2024-2025 Ormai siamo mesi, anni che parliamo di alt season E finalmente forse avremo la possibilità di vederla nuovamente Lo spero ragazzi Perché ce la meritiamo Se siete qui ad accumulare insieme a me Se avete accumulato Io ho già fatto delle vendite Perché ho accumulato in basso Spesso ho avuto la possibilità di fare questo lavoro ragazzi E quindi di convincermi molto di più anche Di un ritorno degli altcoins Però lo stesso Sono molto carico Perché vedremo delle cose interessanti Anche per quanto riguarda altre criptovalute E vediamo un XRP molto molto carico ragazzi Un ritorno su massimi storici per XRP Pure su 2 dollari Superare 2 dollari per fare un altro massimo storico È possibile Siamo a 1,15 centesimi Un ritorno molto prepotente di XRP Speriamo che ritorni Diciamo più forte di prima E ovviamente ragazzi Ci sono tanti nomi interessanti Come Brett Come Dog Che sto seguendo Che potrebbero rimettere un massimo storico Perché non siamo molto molto lontani Vediamo Bonk ovviamente Che continua a salire È prepotente ragazzi Questo nome Però Vabbè Vedete questa candela settimanale È assurdo Che Bonk mette sempre queste percentuali È incredibile È una meme coin Non ha senso resistere Però A noi non ce ne frega Se ci fa fare soldi Ok Questo è il mio pensiero Non è che vado a scommettere tutto Su Bonk O su Dog Però lo stesso Qualcosina Perché no Se possiamo fare profitto Altra cosa importante ragazzi Parlando di profitto C'è una promo molto interessante Con Bitget Travite il mio link Perché c'è possibilità Di ricevere un bonus Di 25 BGB Che sarebbero 35 dollari all'incirca Un poco più Un poco meno In tre semplici passaggi ragazzi Bisogna iscriversi tramite il mio link Qui in basso in descrizione Se siete già iscritti ragazzi Lo stesso Utilizzate il mio link Perché avete scontri sulle fees Avete bonus Sul trading Avete tantissimi bonus Mensili Settimanali Quindi Utilizzate il mio link Se non lo fate non fa nulla Mi supportate in questo modo Però Se non volete Non ci rimango male È solo Qualcosa in più Per ricevere più informazioni Scusate in più bonus Tramite il mio link E vediamo Che c'è possibilità Di ricevere questi BGB Ho fatto sia un post Su Instagram E anche qui Su Telegram Così sapete Non lo specifico Come fare E c'è tempo Fino al 12 Fino al 5 Di dicembre 2024 Quindi Super interessante 35 dollari gratis In BGB Perché non utilizzarli Sto accumulando BGB Che sarebbe il token In Bidget Per chi non lo sapesse Detto questo ragazzi Grazie a tutti per la visione Di questo video Spero che continuiamo a salire Spero che Crow Continui a salire Siamo a 18 centesimi Ah Volevo parlarvi del prezzo di Crow Assolutamente Quindi l'euro importante Da superare nel brevissimo Tempo Questo qui Del Degli 0.18 4.64 Resistenza importante Tutta questa zona Nel breve periodo Poi vediamo Il prossimo Sono i 20 centesimi E superati questi 20 centesimi Ragazzi Il prossimo target Sono i 30 Aggi ne ho parlato spesso Perché vediamo che In questa zona qui Per il prezzo di Crow Non c'è tantissimo Qui intendo C'è questa resistenza solo Poi il prossimo target Questa zona qui E dopo questa zona qui Ragazzi C'è il cielo Perché arriviamo di nuovo In zona 50 centesimi A cedere Lì c'è tantissimo a Fomo Vi aggiornerò come sempre Ragazzi Grazie a tutti per la visione Di questo video Noi ci vediamo Direttamente domani Oppure dopodomani Domani se qualcosa Di incredibile succede Se no Ci aggiorniamo Dopodomani Con tante notizie importanti Ciao a tutti ragazzi E buona giornata E anche buon weekend Che il Pump Sia con voi Come al solito